Milano. 5 giugno 2019. Domenica 9 giugno. Si torna alle urne per il ballottaggio delle elezioni comunali. Sono 136 comuni interessati in Italia e 18 in Lombardia, Dalmine, Romano di Lombardia, Ranzanico in provincia di Bergamo, Lumezzane e Montichiari in provincia di Brescia, Casal Maggiore e Cremona in provincia di Cremona, Porto Mantovano in provincia di Mantova, Cormano, Novate Milanese, Rozzano, San Zenone all'Ambro e Paderno Dugnano nel Milanezze, Concorezzo e Muggio in Brianza, Marnio nel Lecchese, Maccagno, Compino e Vaddasca. Malnatenel Varesotto. Occhi puntati su Cremona per la sfida tra il sindaco uscente Gianluca Galimberti e il candidato del centro-destra Carlo Malvezzi. Quest'ultimo dovrà colmare il gap di 5 punti percentuali. In favore del primo cittadino uscente in una complicata rincorsa al primo round Galimberti con il centro-sinistra ha raccolto il 46,65% di consensi e Malvezzi appoggiato da Lega Forze Italia e Fratelli d'Italia, il 41,18%. A tirargli la volata, il 3 giugno in città è arrivato anche il leader della Lega, Matteo. L'altra curiosità riguarda Concorezzo, Monza-Brianza, dove sono spuntati tanti palloncini colorati con il simbolo della Lega, Alberto Dagiussano. Le scritte, Lega Nord e Lega Lombarda, è un solo nome, Bossi. Un po' di confusione, dato che il candidato del centro-sinistra si chiama Claudio Bossi, si batterà con il candidato della Lega Mauro Capitanio per la carica di Sindaco del comune monzese, al primo turno delle Capitanio ha preso il 47,73% dei voti, Bossi si è, fermato al 32,13%, potrebbero essere determinanti voti della civica Carmen. Trussardi, eliminata al primo turno, col 20,2%. Al ballottaggio anche Dalmine con Francesco Bramani del centro-destra in grande vantaggio, 46,01%. Sul centro-sinistra del sindaco uscente Lorella Alessio, 31,26%. E Romualdo Natali del centro-destra, 35,18%, a Lumezzane, in provincia di Brescia. Il candidato sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia Joseph Facchini in vantaggio di 17 punti, 47% a 30% sul centro-sinistra del sindaco uscente Matteo Zani. Mentre, a Montichiari, Marco Togni, candidato della Lega Nord, sfiderà il sindaco uscente Mario Fraccaro. Qui, l'onda del carroccio di Salvini ha travolto con quasi il 49% dei voti totali, ma non ha raggiunto la vittoria. Per 51 voti Filippo Bongiovanni, candidato del centro-destra, non è riuscito a centrare la rielezione a sindaco di Casal Maggiore al primo turno, e così dovrà vedersela con il suo avversario. Fabrizio Vapina, a capo di un'alleanza fra il centro-sinistra di, Casal Maggiore e la nostra casa, e i giovani civici de, il listone. Per ironia della sorte, al ballottaggio con Claudio. Silla nel 2014 Bongiovanni vinse per soli, 51 voti, il primo cittadino uscente, con Casal Maggiore e Viva, e, Casal Maggiore al centro, ha raccolto il 49,34% contro il 44,07%, determinanti, nella vittoria mancata al primo colpo. I 500 voti confluiti su Orlando Ferroni, 6,59% e dalla sua lista civica, Casal Maggiore nel cuor, gruppo svincolato da, qualunque partitoma che ha un passato ancorato nell'area di centro-destra, a Porto Mantovano, l'ultima sezione scrutinata ha sancito il sorpasso del candidato del centro-destra Monica Buoli. Ai danni di Massimo Salvarani del centro-sinistra, minimo lo scarto tra i due, 20 voti. Sfida tra centro-destra e centro-sinistra anche per le amministrazioni della provincia di Milano di Paderno Dugnano, dove avanti il centro-destra, e di Rozzano, dove in testa c'è il centro-sinistra. A Paderno, Gianluca Bogani, centro-destra, ha annunciato l'apparentamento con Alberto Ghioni, Ezio Casati, centro-sinistra, ha risposto con l'annuncio dell'alleanza con Giovanni Giuranna e Simona Arosio. Mentre, a Rozzano, non ci sono apparentamenti, a sfidarsi ono il sindaco in carica del PD Barbara Agogliati e Gianni Ferretti, forzista sostenuto da Tutto il centro-destra, divisi da 330 voti, a Novate milanese, sarà ballottaggio tra Daniela Maldini, sostenuta da PD, Bella Novate, Uniti e Solidali e Futuro per Novate, e Massimiliano Aliprandi, spinto da Lega, FD e Progetto in Comune. La prima è in testa con il 39,06% dei voti, mentre il candidato leghista insegue con il 32,58%. A Cormano, sì, contendono la vittoria Luigi Magistro Lega, Cormano cresce, Forza Italia e FD e Tatiana Cocca, sostenuta da PD, Cultura Ambiente e Diritti, Cormano partecipa, rispettivamente sono al 45,47% e al 31,45%. Rischia infine di saltare l'amministrazione del centro-sinistra a Muggiò, in provincia di Monza-Brianza, dove il sindaco uscente, Maria Arcangela Fiorito è sotto di 5 punti, 41% a 47% nei confronti di Pietro Zanantoni del centro-destra, al ballottaggio anche i comuni minori di Maccagno, Compino e Vedasca, Va, Marnio, LC, Ranzanico, BG, e San Zenone all'Ambro, Mi, per parità di voti dei candidati a sindaco. A Maccagno, Fabio Passera, impegno civico, sfida Davide Compagnoni, idea comune Compagnoni MVP. A Marnio, invece, Marco Careboni, lista. Indipendente, si scontra con Giuseppe Malugani, insieme uniti per Marnio, a Ranzanico, sfida tra Sergio Buelli, rinnovamenti per Ranzanico e Renato Freri, insieme per Ranzanico, infine, a San Zenone all'Ambro, e ballottaggio per Cristina Cremaschi di San Zenone domani, e Arianna Tronconi della lista civica, il nostro paese. A Marnio, invece, per Cattolconi della lista civica, il nostro paese. A Marnio, invece, con Giuseppe Malugani, insieme per Ranzanico, insieme per Ranzanico, Grazie a tutti. Grazie a tutti.